Uso della mascherina nei posti affollati, vietati balli, pubblici spettacoli, animazione fatta eccezione per intrattenimenti musicali con pubblico seduto e distanziato. Questi punti principali delle disposizioni volute dall'amministrazione per la giornata di ferragosto. Nello specifico l'ordinanza emanata dal Comune di Pesaro prevede l'obbligo di avere con sé la mascherina ed indossarla nelle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari e nelle aree urbane con elevata presenza di persone dalle 8 del 15 agosto all'una del giorno dopo. Inoltre i titolari degli stabilimenti balneari e pubblici servizi si dovranno attenere a tutte le indicazioni riportate dal decreto nazionale e seguire le linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative. L'intrattenimento musicale sarà consentito fino all'una del giorno 16 agosto in tutti gli stabilimenti balneari e pubblici esercizi. Per i trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa dai 400 ai 3.000 euro.